Questa volta il segnale è ritenuto valido. Vincente Rod va subito all'attacco e rileva il comando delle operazioni. Così Vincente Rod leader, Principe Man in seconda posizione, più indietro Simon Foto SM alla corda, mentre per linee esterne c'è Red Fire Thor che si porta al lato del battistrada. La seconda pariglia è presa da Vildicef che è partito sollecito dal secondo nastro. Si arriva così al bocco della seconda curva con Vincente Rod e continua a fare andatura nei confronti di Principe Man con ancora all'esterno Red Fire Thor. Terza pariglia per Zinder De Greppi. Si va completamento degli 800 metri con andatura tranquilla all'ordine 1-3,5 sia pure con partenza ferma. Il gruppo è disposto in pariglia e comandato da Vincente Rod che ha al suo esterno sempre Red Fire Thor. Il chilometro di Vincente Rod che va nell'ordine 1-19-4 con posizioni che non mutano quando si va ad affrontare la terza curva. La piegata di destra è sempre il gruppo disposto in pariglia e con Vincente Rod ancora al comando. Nessuno che fa ancora la prima mossa e così siamo a 700 dal traguardo. Con Vincente Rod che conduce. Ora c'è la mossa da parte del numero 12 di Virdissef che provoca l'accelerazione da parte di Vincente Rod con Principe Man che ne tiene la schiena. Vincente Rod in solitario sulla piegata con una terziglia in schiena. Quando si va adesso a completare la piegata. Vincente Rod leader con sempre Principe Man in schiena. Poi più indietro il numero 9 Simon Foto SM. Quindi ancora il 12 di Virdissef. Vincente Rod il comanda. Ci prova adesso Principe Man che va all'attacco di Principe Man. Principe Man che tende a sopravvanzare l'avversario. Principe Man che viene a vincere nei confronti di Principe Man. Mentre per il terzo è Simon Foto SM. Atteso il più possibile Gianni Manzone con Principe Man per sferrare il suo attacco a Vincente Rod. Lo ha sopravvanzato negli ultimi 70 metri di gara. Ha conquistato così il successo. 2.34.8 sul cronometro. Siamo nell'ordine dell'1.17.5 come media chilometrica. Il successo per il numero 3 di Principe Man con Mario Manzone al doppio da trainer. Il secondo posto per il numero 5 di Vincente Rod. Il terzo per il numero 9 di Simon Foto SM. Il terzo per il numero 5 di Simon Foto SM. Il terzo per il numero 5 di Simon Foto SM. Il terzo per il numero 5 di Simon Foto SM. Il terzo per il numero 5 di Simon Foto SM. Grazie a tutti